Rocky, hop, hop, Rocky, hop, hop, come on, come on, come on, Rocky, hop, hop, scusate, vado a prenderlo, ma che figure, Rocky, no, no, Rocky è un animaletto intelligentissimo, è un procione americano, Rocky, mangi, 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 metti la mano così, metti la mano così, Rocky, mangi, 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 metti la mano, Rocky, mangi, Rocky, cachi, 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 ok, Rocky, Rocky è un animaletto intelligentissimo, Rocky, bravo, ritorno, ritorno, andiamo, 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 me lo porto con me, me lo porto, lo porto con me, lo porto qua, mi lo sparisco, ciao, 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 questo Mario è davvero divertente ragazzi, ed amiche benvenuti in questo speciale appuntamento dedicato al risparmio di fatica e denaro, Ma tutto questo come? Ma grazie agli erogatori Ottottesima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra Fermiamo quest'oggi all'interno dello stand Zagato Con grande piacere Giugiaro, buongiorno Sergio Marchionne, buongiorno Buongiorno, Andrea De Alde, amici Il numero di telefono 0172713333 Vediamo chi abbiamo subito in linea, pronto Grazie Fiorello non vi è piaciuto? Perfetto, si è alzati in piedi, è in piedi, per favore Pronti? Wow wow tutti insieme Facciamo vedere che siamo 1800 persone Allora Grazie a tutti Ecco a voi Daniele e il suo show Ok Grazie a voi Ma un grande applauso lo mette a questo grande conduttore Tutto a fare Daniele Grazie davvero Grazie a voi Grazie davvero Piano 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 Tutto lo staff che ha collaborato alla creazione di questo bellissimo show Quindi Da tutti i collaboratori di Italian Cowboy e dal sottoscritto Daniel Brocci è tutto Alla prossima puntata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti